Eccomi qua, a belli di casa, ben ritrovati dal Vaporega Nazionale Oggi Vapor Contadino All Comeback Perché? Perché perché? Perché molti di voi mi hanno chiesto di provare questo fantastico Tom Quindi oggi faccio un tutorial su tutto quello che c'è da sapere riguardo al nostro buon Tom Andiamo a vedere un po' come funziona, come si sblocca, cosa può fare, cosa non può fare Prima però dell'inizio del video mi raccomando un bel like, iscriviti al canale, attivate la campanella Perché ragazzi siamo arrivati a 12.000 iscritti ma non ci dobbiamo fermare qua Dobbiamo puntare sempre più in alto, quindi mi raccomando iscrizione e attivazione della campanella Se forse interessate ad avere la mia amicizia vi ricordo avete la possibilità di ottenerla tramite l'abbonamento proprio qua su Youtube a 1,99€ E invece su Twitch avete la possibilità di fare l'abbonamento gratuito con Amazon Prime Che varrà comunque come amicizia del Vaporega Quindi se avete la possibilità di farlo fatelo che è un supporto Inoltre il link dei social network e di tutte le altre robe le trovate comunque qua sotto in descrizione Ehi dei, ehi dei, ehi dei, caro ehi dei come stai? Tutto bene mi dice perché qua abbiamo da dare del cibetto alle pecore No alle capre scusatemi, alle capre Diamo subito del cibo alle caprette che le vedo belle belle affamaticchie Mettiamo un po' di lattonzio, mettiamo un po' di lattonzio Buona lì, altro lattonzio e via Stiamo a posto E diciamo è iniziato un derby un po' speciale all'interno del mio vicinato Che si chiama derby relax dei conigli Io ho già fatto un po' di missioni Sono a 200, devo arrivare il prima possibile a 250 Andiamo subito ad arrivare a 250 Perché abbiamo giusto un lattino da raccogliere delle nostre belle belle donzelle Che ci permettono di arrivare a 12 in teoria Quindi guardiamo qua se riusciamo a prendere l'ultimo latte che ci rimane No, non si sa, niente, l'ultimo latte che ci rimane No, ci siamo impossibilitati a prenderlo Quindi niente, rimarremo con 11 su 12 Questa è la triste storia Ma al Vaporega andrà a finire un latte per voi Giusto per finire sta caspita di missioncina E vabbè abbiamo sprecato 4 gemme Amen amenicchia amenicchia Abbiamo finito i nostri incarichi giornalieri Ne abbiamo fatti per un po' 250, quindi siamo terzi all'interno del vicinato Mi raccomando ragazzi entrate perché Ci stiamo dando da fare E questo qua è il mio clan Come al solito i maiali del VAP Livello 45 per entrare Entrate e spaccate Tutto a cause mi raccomando Non fate le porcate Che qua vi vedo belli belli carichi Quindi entrate Andiamo un attimo a vedere come sta andando la situazione Riguardo al mio villaggio Perché qua ho messo un po' di roba in vendita In realtà ho messo praticamente grano turco in vendita Quindi lo ripubblichiamo nel giornale Perché mi sa che c'è se è buggato qualcosina Qua avevo piantato delle culture che richiedono un po' di tempetto E quindi eccoci qua Eccoci qua col nostro Tom Vedete questa scatolina qua in basso Avete la possibilità di schiacciarci sopra Per 10 giorni 100 gemme Per 5 giorni 60 gemme E per un giorno 15 gemme Andrò ad utilizzare la formula per un giorno Quindi andiamo subito a schiacciare un giorno E qua noi gli dobbiamo chiedere Cosa dovrei cercare Noi andiamo a chiedergli quello che volete Nel senso non c'è Tra virgolette il vincolo Quindi cosa abbiamo bisogno Io direi che possiamo aver bisogno Diciamo tra Sì la farei salpare questa qua Perché intanto non la voglio finire Nel senso che non ho tempo di finirla Direi di andare a cercare per noi Dei maglioni Quindi andiamo a cercare dei maglioni Vedete qua Abbiamo la possibilità di andarlo a mandare in spedizioni Per 23 ore e 59 minuti In questo caso lo mandiamo a cercare dei maglioncini Lo mandiamo a cercare Vedete che Tom se ne va a cercare alla gran lunga Fra un po' lo vedremo tornare con la sua offerta Vedete come sta correndo Mamma mia guardate quanto corre Guardate quanto corre E se ne scompare dal villaggio Tornerà Tornerà Ragazzi non abbiate fretta Tornerà Una volta che torna Poi vi offre una determinata cosa Quindi cosa può servire questo Piccolo Tom Vedete una volta che torna Lui ti da un'offerta Ti da tipo 2 maglioni A 101 5 maglioni A 231 9 maglioni A 449 Quindi ti da delle offerte Che tu hai la possibilità Di accettare E non accettare In questo caso io Metti che non la voglio più accettare Perché non mi va bene la sua Schiaccio niente E lui allora cosa fa Si è un attimo Un attimo Tra virgolette Arrabbiatino Quindi deve fare un attimo Di pausa Perché ha corso E per 1 minuto E 50 secondi Si sta in pausa 1 minuto e 40 secondi Abbiamo la possibilità Di riattivarlo Rimandarlo a cercare Rubette E questa è l'utilità Di Tom Quindi cosa vi consiglio Di fare Soprattutto Come funziona Come funziona Tom Quando ci sono degli eventi Particolari Come ad esempio La produzione Di più cose Da andare a fare Quindi Più barche Più eventi da coprire Oppure Più monete in paglio Anche Perché succede spesso Anche magari di trovare Più monete in paglio Se finisci gli ordini Quindi vuoi finire Più ordini possibili Per farmare un po' di monete Bene Ecco che ci arriva Tom E ragazzi Tom c'ha la sgasa Va potente E siete belli Che tranquilli Per quelli che mi hanno chiesto Riguardo al villaggio In realtà Siamo in una situazione Di stallo Dobbiamo arrivare A livello 33 Per sbloccare Gli aiutanti E poi fare l'ultima rod Che deve essere Quella verso la città Per il livello 34 Riguardo alle monete Le sto tenendo Non mi chiedete ancora Perché Dovrei andare A posizionare In realtà Le fonderie Perché non ho finito Ancora tutti Gli edifici di produzione Mi mancano Le fonderie Da posizionare Probabilmente Rimaniamo soltanto Con una fonderia Per quanto mi riguarda Adesso Anche se poi In futuro Vorrei metterne Vorrei metterne Assolutamente Delle altre Per adesso però Comunque rimaniamo così Perché vorrei arrivare A livello 33 Per capire un po' Come siamo messi Dall'altra parte Qua mentre che ci siamo Mettiamo subito Il nostro Il nostro ordine A farsi Così Farmiamo un po' Di soldini Riguardo alla contada Sta andando abbastanza bene Ho svuotato gli animali Del video di ieri Andiamo a farci Giri giornalieri Di carburante Perché se no Non ci muoviamo più E non va assolutamente bene Aia 9 di carburante Pesante Abbiamo ancora Due giri da fare In totale Abbiamo quasi 50 passa di carburante Quindi immaginate Quindi immaginate Quanta roba abbiamo Vi ricordo Che tutte queste cose qua Tutti questi giri gratuiti Si hanno Attraverso il pass Quindi se avete la possibilità Di avere il pass Tanto vale Pescheria 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 Dove è la pescheria Allora la pescheria È rappresentata così Con una cosa azzurrina Eccola qua Dobbiamo avvicinarci di più Naturalmente Per scoprire meglio i dettagli E qua Dobbiamo prendere i premi Vabbè Li abbiamo presi Tranquillo Vai Andiamo dal Andiamo dal fornitore di servizio Mentre lui adesso andrà Ad incrociare gli animali Li prende Lui Il mio furgone è innamorato Degli animali Li prende tutti Cioè senza Senza pietà Adesso prende pure l'ippo Perfetto Dimmi che gira Ehm Intanto una giraffa La prendiamo per forza E via Altra giraffa Vai Abbiamo fatto il pieno di animali Siamo 3 su 3 E E stiamo nel chilling Perfetto Ho già capito Ho già capito Ehm Qui adesso lui si ferma qua Il carburante Però noi non ci vogliamo fermare Il carburante Ehm Perché non mi fa dare La mannaggina Non si sa Non si sa Il mio Il mio non si vuole avvicinare Alla pescheria Ma si puoi avvicinare Alla pescheria Perfavore Oh la Missione giornaliera finita Quindi abbiamo fatto La missione giornaliera Ci siamo presi un pezzettino Verso la nuova cassetta Molto molto bene Quindi direi che per la Ehm Per oggi Questa qua va bene Va benissimo Ehm Riguarda Tom Adesso lo mandiamo veramente A cercare qualcosa di utile Perché ragazzi Io qua Se non mi trovo Dei tortini di pesce Io sono finito Quindi vado a mandarlo subito A pigliare dei tortini di pesce Quindi andiamo qua Tata tata Guardate come si fa Tata tata Naturalmente vi consiglia Le cose che magari Non avete di più All'interno Del vostro granaio E quindi vi consiglia Ci viene complicato Per qua Per finire con tutte queste missioni qua Che mi chiedono appunto dei tortini di pesce Almeno ce li ho e siamo belli che a posto Dove è finito Tom? Mi starete chiedendo Sta tornando perché naturalmente È andato a prendere la richiesta fatta I nove tortini Lo vedete che arriva qua e Fisk Arriva con i nove tortini Avete visto la sutilità e adesso si rimette di nuovo a riposare Fa la sua pernichella di non si sa quanti minuti Fra un'ora e 59 minuti Quindi vedete che è un po' sbizzarrino Il nostro Tom Risulta quindi molto utile L'utilizzo di Tom Se avete la possibilità utilizzatelo Se avete delle curiosità Che magari volete sapere Che non sapete come funzionano determinate robe Ragazzi sono qua sempre pronto a rispondervi Mi raccomando like, iscrizione, commento Attivazione della campanella Per fare pum 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 al canale Ci becchiamo oggi pomeriggio in live Mi raccomando vi aspetto Ciao cari Ciao 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 belli Ciao 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 ciao